Qui oggi siamo impegnati nella chiusura del corso dei nostri nuovi dirigenti a livello nazionale, dei futuri dirigenti nazionali, Campo Scuola, e il primo livello di quello che è l'avvicinamento di questi ragazzi al compito che poi andranno a svolgere. Oggi il sindacato necessita di preparazione, necessita anche verso quello che è un sindacato di specializzazione, quindi conoscenza della materia, oltre che di passione, e oltre quelle che sono le normali attività che si svolgono nelle aziende. La decisione di fare questo Campo Scuola a livello nazionale in Calabria mi è orgogliosissima, perché io sono di Catanzaro e quindi questa decisione dell'organizzazione mi ha riempito di orgoglio. E questo è il primo passaggio di quello che poi sarà il futuro, perché sono convinto che incontrerò tantissimi di questi ragazzi che si ricorderanno di questi attimi, di questa formazione eccezionale fatta dal nostro sindacato, che poi tra l'altro è l'unico che lo effettua, e quindi avremo tempo e modo per ricordare queste giornate che si sono svolte a partire da domenica scorsa, e oggi chiudono con la presenza del segretario generale Luca Bulgarassi, dopo aver avuto anche la partecipazione dell'aggiunto Brigida Angeloni, e quindi è un motivo di alto confronto, di alto spessore, e questi ragazzi speriamo di avergli trasmesso tutta la nostra passione, tutto quello che può essere, voglio dire, il primo approccio che si può per quello che riguarda le conoscenze, soprattutto la trasmissione dei valori della nostra organizzazione, che sono la base fondante e sono la base principale su cui costruire il futuro di quella che è la nuova classe dirigente del nostro sindacato.